Un posto al sole, trame al 13.10, Lara scappa, Roberto ha in mente un piano per incastrarla. L'appuntamento seguirà i tre ed è un posto al sole. Questo dramma italiano continua ad attirare molti spettatori davanti alla tv per scoprire l'esito della rivelazione di Lara. Questa donna, infatti, perde la sua battaglia con Marina per Roberto Ferri ed è talmente disperata da compiere gesti così folli e drammatici. L'intervento di Ida è fondamentale per salvare Marina dalla follia di Lara. Roberto riuscirà però a escogitare un piano per fermarli. Spoiler della prossima puntata di Un posto al sole, Aida salva la vita a Marina nel prossimo episodio di Un posto al sole. Lara è accecata dalla vendetta e mette in pericolo la vita di Marina. Tuttavia, Ida salva la vita a Giordano, e questo crea una profonda intesa tra le due donne. Lala non si arrenderà così facilmente e chiederà a Ferri di darle un'altra possibilità e scappare. Tuttavia, Roberto escogita un piano che potrebbe sconvolgere completamente Lara. Intanto Silvia si appresta ad affrontare alcune novità riguardanti Giancarlo, di cui non sembra per nulla contenta. La situazione di Silvia preoccupa Mariela che decide di troncare la relazione con Guido. Silvia riceverà qualche consiglio da Mariela e poi sembra pronta a prendere una decisione definitiva su Giancarlo. Inaspettatamente viene coinvolto anche Otello. Jimmy ha deciso che voleva trascorrere più tempo con sua madre, Michaela. È stata una giornata dura per Michele, che ha dovuto affrontare in radio argomenti molto delicati. Michele e Filippo avranno diverse discussioni sulla politica editoriale da seguire in radio. Per fortuna, Nunzio viene in suo aiuto. Silvia e Giancarlo iniziano invece una vita insieme, ma devono superare l'iniziale disagio dell'ingerenza di Otello. I due non sembrano trovare nulla in comune. Poi arriva una richiesta inaspettata da parte di Jimmy, che vuole trascorrere più tempo con sua madre. Dopo un incidente, il giovane si rese conto che Bricca era malata. Marina e Ferri discuteranno della questione con Lara, che minaccerà di dire a tutti la verità su Tommaso. Se la verità venisse fuori, potrebbe avere gravi ripercussioni per tutti. Viola e Damiano finiscono per incontrarsi per risolvere la situazione dopo aver condiviso un momento intimo. Potrebbe esserci un avvicinamento o una partenza finale. Intanto Giulia è sempre più convinta che Luca stia nascondendo qualcosa. Guido ha intenzione di incontrare e parlare con Gerry per apprendere nuovi dettagli sulla sua denuncia.